Fin dal primo contatto con la nuova Fiat Panda 4x4 avevamo constatato tre qualità insite nel suo DNA, prestazioni, divertimento e sicurezza. A Madonna di Campiglio Fiat Winter Fun è stata l'occasione per provare sul campo che niente può fermarla e che si può vivere l'inverno divertendosi in assoluta sicurezza. A proposito di divertimento, il colore è arrivato dal Fiat Freestyle Team, che si è esibito davanti allo chalet Fiat, volando letteralmente sopra la protagonista dell'evento, affiancata nell'occasione da Trekking, Fremont All-Wheel Drive, Cubo Trekking e 16, tutte vetture pensate per affrontare al meglio i mesi invernali. Dopo essersi aggiudicata il premio South of the Year 2012, la nuova Fiat Panda 4x4 ha sfoderato tutte le sue qualità sul percorso studiato per il Test Drive, da Campo Carlo Magno a Pinzolo, con un lungo e bellissimo tratto attraverso i boschi. Unica vettura del segmento A a contrazione integrale, dotata di serie di pneumatici Winter MS Snowflake, la Panda 4x4 ha affrontato i tratti innevati con estrema facilità e senza la benché minima incertezza, anche grazie al sistema di trasmissione torque on demand, che entra in funzione automaticamente in caso di necessità. E per mettere alla prova la trazione, siamo usciti da un sentiero affrontando la neve fresca, uscendone senza problemi e sempre in assoluto controllo del veicolo. Idem per quanto riguarda il ghiaccio, che abbondava nel tratto nei boschi da Pinzolo a Madonna di Campiglio, dove la Panda 4x4 ha mostrato un grande grip, senza mai fare scherzi. Insomma, sicurezza e divertimento a 360 gradi. Ma se tutto questo non vi bastasse, Fiat ha in serbo un'altra carta, ovvero Fiat Panda Monster Truck, il prototipo che unisce una Panda 4x4 al pianale di una Jeep CJ7-4002, con ruote da trattore stradale, alta 3,9 metri, lunga 3,8 e larga 2,5. Perfettamente funzionante. Unico rimpianto, non averla potuta provare. Nuova Panda è Simply More e qui a Madonna di Campiglio abbiamo scoperto che è anche Simply More Fun. Abbiamo organizzato questo evento presso il nostro Fiat Chalet qui a Madonna di Campiglio per celebrare il divertimento in totale sicurezza. La nostra gamma 4x4 è trekking, partendo dalla Panda, passando per la 16, il Cubo Trekking fino al Fremont e celebriamo anche una serie di collaborazioni che abbiamo con ad esempio il brand Nitro, un brand americano che produce il snowboard molto famoso nel settore, il Fiat Freestyle Team, un gruppo di ragazzi in gambissimi che si divertono sulla neve e anche un'iniziativa per noi molto importante che è quella di sponsorizzazione e supporto di 14 stazioni sciistiche attraverso il Fiat Topski School, quindi praticamente ci sono 650 istruttori di sci che guidano le nostre vetture in montagna. E Panda 4x4 sta andando molto bene anche a livello di dati di vendita? Sì, abbiamo introdotto la nuova Panda 4x4 in Italia un mese e mezzo fa circa e già rappresenta il 14% del totale delle vendite della Panda. Era un successo quasi annunciato perché storicamente la Panda 4x4 ha sempre venduto bene, non solo in Italia ma anche in Svizzera, in Austria, tutte le nazioni dell'arco alpino. Dobbiamo dire che la risposta che stiamo avendo nelle prime settimane sta andando anche un po' oltre le nostre aspettative, quindi ben venga.